Ci stavo pensando io nel mio privato, subito dopo aver visto l'ultimo trailer dedicato ad Assassin's Creed Valhalla, poi sono andato a vedere sui social e ho visto che non ero stato il solo ad aver fatto la stessa considerazione. Cioè, questo trailer, pur essendo molto bello, dimostra che continua ad esserci un triste senso di inferiorità dei videogiochi nei confronti degli altri mondi dell'intrattenimento, per esempio il cinema, anzi, soprattutto il cinema, perché poi è quello il settore che più si avvicina a quello dei videogiochi. Ma perché abbiamo pensato questo? Perché è innegabile che questo trailer, non sappiamo quanto poi sarà simile non tanto nell'ambientazione, ma nell'atmosfera al gioco finale, è impossibile non notare le somiglianze addirittura pericolose con una delle serie più amate da quel pubblico che in qualche modo si sovrappone al pubblico dei videogiocatori. E mi riferisco naturalmente alla serie Vikings, di cui tra l'altro uscirà anche una nuova stagione proprio in concomitanza con l'arrivo nei negozi di questo nuovo Assassin's Creed. Perché? Perché fare una roba che è al limite veramente del plagio quando puoi costruire un tuo immaginario, quando hai tutta la forza creativa per dar vita a un mondo, sì, magari costruito e basato sulla stessa lore, sullo stesso folklore, sulla stessa storia, però poi comunque costruito e plasmato in base alle proprie capacità, al proprio stile, ecco, manca uno stile. Qui ci troviamo veramente quasi all'ombra di una serie televisiva che probabilmente ha persino un budget inferiore di questo gioco. Probabilmente ha anche un volume da fare inferiore a quello che potrebbe potenzialmente avere Assassin's Creed Valhalla. È un peccato, è un peccato, ed è una cosa che fortunatamente ci stiamo scrollando di dosso. Guardate Rockstar, anche Rockstar è partita scimmiottando film famosi. Vice City, ragazzi, Vice City, ci stanno dei personaggi che sono veramente un plagio di personaggi famosissimi visti nei film. Cioè, è proprio una roba incredibile. Poi, pian piano, c'è stato un distaccamento. Red Dead Redemption 2 si vede che è un prodotto nuovo, anche se strizza l'occhio a tutta una cinematografia di genere. Ed è un peccato che oggi questa moda che sembrava passata, che era giusto fosse passata, sia così tornata alla ribalta proprio attraverso uno dei titoli che inevitabilmente diventerà tra i più attesi dell'anno. Fortunatamente c'è chi non lo fa più, c'è chi guarda oltre, c'è chi si sente sullo stesso piano qualitativo dei film, delle serie TV. Per esempio, Naughty Dog, che avrà tutti i limiti del mondo. Non sto dicendo che Naughty Dog sia la più brava al mondo, però è innegabile che Naughty Dog sa costruire dei personaggi e dei mondi che non hanno uguali nel mondo del cinema. Ci sono delle somiglianze, ma non c'è ispirazione netta. Anzi, parliamoci chiaro, parliamo con i giusti termini. Non c'è nessun sentore di plagio, perché una cosa del genere, come quella del trailer di Assassin's Creed Valhalla, che ripeto, è bellissima. Il gioco probabilmente sarà fantastico, tra l'altro è fatto dal team di Black Flag e Origins, che secondo me, a livello artistico, ma anche di gameplay, stanno in una spanna sopra a tutti gli altri. Scusate, mi scusino gli appassionati che la pensano diversamente. Però è un peccato, è un peccato, è un'occasione persa. Speriamo, anzi, che il gioco riuscirà un po' a scrollarsi di dosso questa atmosfera che è così ben percepibile con questo primo trailer. Per il momento è tutto. Fatemi e fateci sapere cosa ne pensate commentando qua sotto e continuate a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali. Alla prossima! Alla prossima!